tutto bene siccome ieri ti abbiamo visto che non stavi molto bene e stavi last e sono chiamati carabinieri ora ti senti bene ti senti bene voi non potete immaginare in che condizioni angelo e l'ello stanno l'ello dov'è non sta tanto bene non sta tanto bene avete fatto il tampone per il covis voi tutto tutto negativo e siete rimasti sempre qua avete fatto qui lock down ma avete continuato a uscire no 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 mai siete usciti e vi hanno ripreso per strada mentre eravate in giro non è vero questo qui tu stai bene voi state bene sempre senza luce siete senza luce non è normale non è normale tu stessa lo dici e l'acqua e l'acqua va bene fa niente c'è sto bevendo l'acqua senza sto benissimo il gas pure non c'è la luce no la luce no nel gas non è meno niente niente come fate sto bene ma non senti la puzza che si respira dentro casa no si sta tutto bene è vero va bene con che chiedi di fare con quei soldi la spesa l'aspirino la birra qualche cosa va bene ma possiamo possiamo vedere casa ci fai vedere casa non vuoi fare entrare nessuno il problema è proprio questo che chiunque viene carabinieri soccorsi hanno sempre una grande difficoltà perché poi voi andate via in ospedale tornate la sera no 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 non voglio andare in ospedale sto bene così no dico in generale questa è casa vostra vero no si va bene quindi tutto a posto tutto a posto ti vedo ti vedo serena rispetto a ieri ieri ti hanno trovato qui con la bottiglia di birra ma è stato che momenti a mente che perché mi sono andata a guardia san paolo sono state le mie zia sono tornata e sei tornato con la birra stavi sulle scarpe me l'aveva la data lì di regalo di regalo si sono venuti i carabinieri ieri sì ma me l'ha dato i miei zia di regalo e cosa hai detto i carabinieri tutto a posto tutto a posto sono state mezzi e basta e basta tutto normale erano stati fatti anche dei titoloni ma in realtà il problema di angelo e lello non è stato per niente risolto angelo e lello sono stati qui durante il lockdown sono usciti sono entrati sono usciti sono entrati qualche passeggiata l'avete fatta in questi in giro i guanti la mascherina ce li hai tu tutto a posto ciò che vi possiamo far vedere che possiamo raccontare non è ciò che vi possiamo far sentire l'odore nauseabondo che viene dalla casa questa per quanto per le istituzioni per la burocrazia possa essere una condizione normale possiamo assicurarvi angela che nemmeno le bestie vivono in questo modo angela date una pulita questa casa questa casa va pulita l'odore che si sente entrando dal portone d'ingresso è una cosa che ti stringe il cuore per la mia zia mi ha detto ma è stato un giorno una serata quanta birra quanto vino bevete al giorno non bevi vino ieri non ti sei ubriacata tanto che qualcuno ha dovuto chiamare carabinieri no 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 niente mai e lello come sta lei non sta tanto bene e perché non sa che cosa c'è problema che l'ansia i momenti suoi perché mi è morto mio padre sappiamo ti ricordi che noi siamo venuti poi vi hanno portato in ospedale mezz'ora dopo stavate di nuovo qua è così è così ma voi siete coscienti del fatto che quella sembra una stalla non sembra una casa per voi è normale per loro per loro è normale il dramma di questa vicenda che per loro questa cosa è normale vero è morto mio padre e voglio stare qua e vuoi stare i miei zia cioè da quando è morto tuo padre voi non avete ancora riparato la porta si chiunque può entrare in casa tua vero è sempre aperta ma è sempre aperta non è un problema della porta non è un interesse della porta non è un problema chiunque può entrare ma non c'entra nessuno perché mio padre mi ha detto a me di quando non ci sto più io non puoi fare entrare nessuno ma aggiustate la porta ma appena faccio la moneta ok magari al posto di comprare da bere aggiustate la porta non è io non bevo tu non bevi solo acqua solo acqua beve angela vero solo acqua vabbè quindi cin 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 alle istituzioni ci brindiamo brindiamo a chi pensa che questa situazione sia una situazione normale alla salute il nome mio antonio se non ti ricordi angela ti ricordi va beh facciamo un saluto alle istituzioni salutiamo tutta po allora d'ora in poi l'hashtag di via don bosco 15 lo dice angela qual è e quindi tutta po tutta po tutta po ciao angela ciao buona giornata facci entrare facci vedere angela guarda guarda Grazie per la visione!